La stagione teatrale Callipolis riparte il prossimo fine settimana, sabato 25 e domenica 26 febbraio al Cineteatro Garibaldi di Giarre, con una rappresentazione di spessore, il giorno della civetta di Leonardo Sciascia, nell'adattamento teatrale del regista Antonello Capodici, che nelle scorse settimane ha avuto grande successo nei teatri di Catania. In scena una coppia di attori etnei, Salvo ed Edoardo Saitta. I temi sono quanto mai attuali. Salvo Saitta, uno dei pilastri del teatro siciliano e nazionale, è Don Mariano, spietato mafioso. Edoardo Saitta è invece il capitano dei carabinieri Bellodi, che indaga su un omicidio. Un lavoro di certo non semplice, perché trasporre le pagine di un romanzo al palcoscenico rischia di non riportare fedelmente l'originario testo dello scrittore. Invece, lo spettacolo ha ottenuto ampio consenso di pubblico e critica, tanto che sarebbe utile proporlo alle scuole. Il giorno della civetta apre il 2023 della stagione teatrale Gallipolis. Cosa ci si deve aspettare? Sicuramente soltanto del buon teatro. E poi chiaramente l'opera di Sciascia, quindi tratta dal romanzo di Leonardo Sciascia, che oggi straordinariamente resiste ed è straordinariamente attuale. Perché sappiamo tutti di cosa parla il romanzo, di questo omicidio con la sberna e di tutto quello che c'è intorno, Boss compreso. Ecco, se pensiamo proprio alla storia di questo Boss e la vediamo oggi, il romanzo sembra scritto ieri. Quindi ci si deve aspettare soltanto del buon teatro e della bella letteratura. Sul palcoscenico sarà accanto a suo padre, peraltro? Sì, per me non è una novità, chiaramente. Ormai io con mio padre abbiamo instaurato un rapporto bellissimo sulla scena. Forse è più bello di quello che abbiamo fuori, perché in scena è come se fossimo due che si incontrano per la prima volta. Quindi è sempre un'amicizia nuova. Ed è una gioia, per me è sempre, lo dico sempre, è sempre un onore. E l'ultima scena, io la faccio proprio con lui, dello spettacolo, perché papà interpreta Don Mariano. Ed è una scena in cui lui per 22 minuti mi sfinisce. Io dico sempre ai miei amici, ai miei colleghi e a chi viene a vedere lo spettacolo che alla fine di quella scena arrivo stanco, avvilito, svilito. E questo arriva alla gente, perché in quel momento rappresentiamo la mafia e l'antimafia per come il pubblico desidera proprio vederlo, in una maniera vera, forte. Vogliamo parlare anche un po' del cast? Ma il cast non ha, a mio avviso, bisogno di presentazioni. A parte papà, abbiamo Francesca Ferro, Fabio Costanzo, Maurizio Nicolosi. Questi ultimi due sono due volte conosciuti anche al cinema italiano e alla fiction italiana. Poi c'è Francesco Maria Tardi, Aldo Mangiù e Alfio Belfiore. E poi, insomma, io sarò il capitano Bellodi, la regia di Antonello Capodici e noi ci aspettiamo che il 25 e il 26 di febbraio al teatro Garibaldi di Giarre non rimanga nemmeno un posto come fino ad oggi è accaduto a Catania e negli altri teatri. Fabio Costanzo torna sul palcoscenico, torna al teatro dopo un periodo di fermo. È un'emozione. Ciao, direi proprio di sì. È stata una bellissima emozione ritornare a respirare le tavole del palcoscenico dopo tre anni. E devo dire che sono ritornato a respirare. Mi piace utilizzare questo termine, respiro. Sono tornato a fare parte di questa bellissima famiglia che è il teatro ABC. E niente, sono a teatro con Il giorno della civetta, un classico della letteratura di Leonardo Sciascia. Io faccio Calogero di Bella, detto Barrineggio, che è un personaggio importante sia nel romanzo che anche nella pièce teatrale. Con Salvo Seitta che è una garanzia, Francesca Ferro, Edoardo Seitta, insomma, tanti bravi ed apprezzatissimi colleghi. Che dire, venite al teatro, il teatro è vita, è letteratura, è cultura, è libertà di pensiero. Al teatro tutto si può fare.